Ciao Gianmarco, come prima cosa ti vorrei chiedere chi sei, presentati un attimo e dici la tua esperienza. Ciao Simone, grazie per l'opportunità di raccontare la mia storia. Allora, il mio background è in economia e management, ho studiato a Sassari, ho fatto la Trennale là, poi mi sono spostato per vari Erasmus e altre esperienze un po' in giro per il mondo e poi sono tornato a Barcellona per fare il Master e in questo momento sono in Silicon Valley perché sono uno dei 9 fortunati vincitori della borsa Fulbright Best e quindi sono in Silicon Valley lavorando sulla mia startup, sull'implementazione della mia idea. Allora, ti vorrei chiedere subito che cosa tu a livello di startup e quali sono state le tue esperienze in Italia prima di partire per la Silicon Valley? Allora, io in Italia subito dopo la Trennale avevo provato a lanciare una mia prima startup però probabilmente i tempi non erano quelli corretti, il team non era quello giusto per l'idea e quindi la startup aveva fallito e poi io ho avuto delle altre esperienze che non erano necessariamente dentro l'ecosistema delle startup perché dopo il master a Barcellona ho lavorato nel settore marketing diciamo per le due aziende e poi appunto ho avuto l'idea del progetto su cui sto lavorando adesso e adesso sono qua. E quindi la startup per cui sto lavorando adesso, la startup che abbiamo portato qua in Silicon Valley si chiama Handshake ed è appunto un'app che permette di rivoluzionare il modo in cui le persone fanno networking, quindi i nostri user avranno la possibilità di catturare il momento in cui si incontrano le nuove persone e quindi ricordare il come, il perché, il quando è il chi. Quindi diciamo che è un assistente personale per fare networking, vogliamo mandare in pensione i vecchi bigliettini e obsoleti bigliettini da vista che fondamentalmente servono, in questo momento servono, ma servono anche a fare ulteriore confusione perché quando si rientra a casa dopo un evento, dove si è conosciuto una marea di gente, centinaia di persone, ci si svuota le tasche e si ritrova davanti a una marea di bigliettini da visita con nomi, posizioni e chiaramente non ci si può ricordare chi era quella persona davvero interessante che adesso voglio contattare. Quindi con la nostra app si ha la possibilità appunto di ricordare per associazione quella persona. Quindi anche se tu non ricordassi il nome, perlomeno ricordi la situazione, quindi il luogo, ricordi un tipo di evento l'hai conosciuto, la data, puoi scrivere una nota, puoi registrare un audio, puoi appunto registrare quelle piccole cose che ti permettono un domani di ricollegarti a quel contatto. Invece a livello dell'esperienza, però perché stai facendo il programma Fulbright Best, che cosa ci puoi raccontare, che cosa ci puoi dire? Allora, il programma Fulbright Best consiste in sei mesi in Silicon Valley. Il primo mese è un mese di Startup School e quindi classi di teoria dove ci spiegano appunto come bisogna elaborare il progetto, business plan, piuttosto che canvas, business model. Siamo andati a visitare le più importanti aziende qua in Silicon Valley, tra cui Microsoft, Google, Airbnb e tutte queste grandi realtà. E poi dopo il primo mese di Startup School abbiamo fatto cinque mesi di internship, appunto ognuno di noi è andato in una azienda differente, tra cui acceleratori, incubatori qua in Silicon Valley e io invece sono rimasto a Mindy Bridge che è l'azienda che appunto ha organizzato tutto qua in Silicon Valley, quindi è l'azienda che ha organizzato la Startup School, è l'azienda che segue, che ci sta seguendo durante questo periodo e quindi la referente del Fulbright Best qua in Silicon Valley. Invece lì in Silicon Valley quali sono le novità imprendisoriali che tu noti che per esempio in Sardegna ma in generale in Italia possono mancare? Beh guarda, quello che ho notato qua più che novità imprenditoriali è proprio come si dice lo state of mind della Silicon Valley. Una delle grandi differenze è che qua si ha davvero la possibilità di avere a che fare, di parlare, di avere dei feedback anche con persone che hanno effettivamente cambiato il mondo, cioè che hanno creato prodotti che noi utilizziamo tutti i giorni. Per esempio ho avuto modo di conoscere Federico Faggin che è il creatore del microprocessore e del touchscreen, è venuto a parlare con noi Giacomo Marini che è il founder di Logite, che è quindi del mouse, giusto per nominartene due. Un altro aspetto della borsa Fulbright Best consiste nell'incontrarci ogni venerdì e svolgere appunto il mind chat, quindi un mentor della Silicon Valley viene qua e noi gli facciamo domande, lui ci racconta la sua storia e appunto come ti dicevo prima è passato Giacomo Marini, qua è venuto Federico Faggin, come loro tantissimi altri che ci danno appunto non solo un feedback tecnico sulla startup ma anche la motivazione per andare avanti nonostante tutte le difficoltà. Ok, un'ultima domanda per chi potrebbe essere in un futuro interessato al programma Fulbright Best, come funziona esattamente l'iter di selezione se vuoi raccontarci la tua esperienza, perché sappiamo essere un iter abbastanza complesso e lungo. Sì, allora i differenti step sono 31 di marzo scade il bando e quindi bisogna compilare appunto tutto il form, fare dei test prima del 31 marzo. Poi per quanto riguarda la mia esperienza personale, verso fine maggio è arrivato il riscontro della prima selezione, del primo step e quindi ci è stato comunicato che eravamo stati selezionati per l'intervista successiva a Roma, quindi dopo un paio di settimane mi sono recato a Roma, ho fatto l'intervista con la commissione Fulbright, che consiste in 5 minuti di pitch dove appunto bisogna inoltrarsi in tutte le spaccettature del business, quindi dire se si è sostenibili, se si è scalabili, qual è il team, quali sono i diversi step, se è un B2B, un B2C, il mercato, tutti gli aspetti del business. Poi ci sono delle domande che riguardano prettamente la start-up e poi domande personali. Quindi dopo questa intervista, dopo un paio di settimane, ci è stato comunicato l'esito della selezione e poi da lì inizia tutto il percorso burocratico per fare i visti, quindi si viene messo in contatto con l'azienda sponsor che ti aiuterà a svolgere queste cose che sono un po' cospinose, tutta la burocrazia è mai spiegato in questo momento. E poi quindi si deve recare in ambasciata a Roma e una volta che è tutto pronto, il percorso qua inizia a inizio ottobre, prima di ottobre, quindi io mi sono recato qua un paio di settimane prima per cercare di trovare la casa, sai, per non arrivare all'ultimo momento, ci sono quelle cose, fare la scheda telefonica, sai, incontrare gli altri ragazzi prima dell'inizio del corso e poi si inizia il programma vero e proprio, quindi con la start-up school e poi con l'inter-ship. Grazie per la visione!